Sabato mattina a Palazzo Pretorio verrà presentato il nuovo Centro Internazionale di Ricerca sulla Civiltà Mercenaria che verrà costituito ad Anghiari e che vedrà la partecipazione di professori universitari provenienti da tutta Europa. Un percorso di grande interesse che mette in risalto l'importanza della ricerca storico-scientifica e che vede come capofila il Museo della Battaglia e di Anghiari. Nelle cui stanze sono tra l'altro esposte le opere degli intellettuali in battaglia, mostra inserita nel progetto Terre degli Uffizi, ideato e realizzato dalle Gallerie degli Uffizi e da Fondazione CR Firenze. Il Centro di Ricerca riunirà ad Anghiari alcune delle più significative competenze e qualità umane per dare una nuova e antiretorica lettura dei fatti legati alla Società del Quattrocento, così permeata dal mestiere delle armi. Parteciperanno i maggiori studiosi del settore provenienti da prestigiose università di Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, mentre il coordinatore scientifico sarà Francesco Storti, professore di storia medievale all'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Sabato, dopo la presentazione del Centro Internazionale di Ricerca sulla Civiltà Mercenaria, alla presenza degli studiosi protagonisti e dei rappresentanti delle istituzioni, la giornata di studi entrerà subito nel vivo con le prime proposte di ricerca.